E' stato un grande successo il Festival Leggere e Scrivere che a Vibo Valense è giunto alla sua sesta edizione. Sei giorni che hanno visto oltre 200 dibattiti per 250 ospiti con un programma che ha spaziato tra musica, letteratura, scienza, attualità e la partecipazione di almeno 30.000 persone. Un successo straordinario. Ne abbiamo parlato con chi ha ideato e organizzato questa straordinaria Kermess, Gilberto Floriani e Maria Teresa Marzano. Con loro abbiamo analizzato questi aspetti. Iniziamo proprio da Gilberto Floriani. Essere arrivati alla sesta edizione ed avere la prospettiva di poter andare avanti è veramente un grande risultato. Il grande risultato sta nei numeri. Circa 30.000 persone hanno frequentato Palazzo Gagliardi e le altre sedi del Festival nei sei giorni appunto dal 9 al 14 di ottobre. Sta nella qualità degli ospiti e vorrei sottolineare la presenza di due personaggi veramente di grande valenza che sono il presidente del Senato, Piero Grasso, e il finanziere Francesco Micheli che è una straordinaria figura di mecenate e che noi siamo molto felici che abbia potuto venire al nostro Festival e con il quale si è stabilito un rapporto di vicinanza che potrebbe portare dei buoni risultati anche per il futuro. La presenza degli studenti, una presenza interessata e che ha coinvolto, conferma anche che questo tipo di formula funziona soprattutto tra i giovani? Sì, c'è stata una fortissima richiesta da parte delle scuole di partecipazione al Festival, non solo delle scuole vibonesi ma delle scuole calabrese in generale. C'è un fortissimo interesse proprio dal punto di vista della didattica, insomma tutti quanti sono riusciti a comunicare dei contenuti che sono stati giudicati di grandissima utilità per la scuola. Un'organizzazione complessa per portare personaggi di vario livello che però ha dato i risultati sperati. Io direi di sì, mi sembra che il bilancio possa essere considerato più che positivo, l'affluenza è stata massiccia, gli incontri partecipati e soprattutto mi sembra che le persone, che gli spettatori siano sempre più consapevoli di quello che vanno ad assistire, non vengono così a fare un giro come a volte ci è sembrato i primi tempi, i primi anni di percepire, ma vengono proprio dopo aver studiato bene il programma, guardato argomento per argomento, libro per libro e avendo scelto proprio di partecipare a determinati incontri.